Il Comune di Teramo ha annunciato che sono in arrivo per gli sfollati del sisma i contributi di autonoma sistemazione per due mesi, somme riferite a maggio e giugno per i cittadini che sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni, rese inagibili dalle scosse tra fine 2016 e inizio 2017 e tuttora vivono in altri immobili. Va ricordato però che il 15 settembre scadrà il termine per la conferma dei requisiti per continuare a ricevere il casse. I dati necessari per questa nuova fase dovranno essere trasmessi attraverso un modulo da compilare online e per aiutare i cittadini in questa operazione il Comune ha siglato un accordo con il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo che metterà a disposizione due operatori per agevolare la compilazione della documentazione per chi ne ha bisogno. Parliamo di 650-700 nuclei, la maggior parte tra l'altro proviene dalla ricostruzione pubblica quindi da inquilini ATER mentre la ricostruzione privata sta andando abbastanza velocemente avanti ed è chiaro che quella fascia è una fascia più debole, più fragile sotto un punto di vista naturalmente di strumentazione, di computer, di utilizzare questi strumenti che non sono molto semplici tra l'altro devono utilizzare o lo speed o la carta servizi o l'identità della carta di identità elettronica naturalmente anche questo noi l'abbiamo superato con la costituzione di questo sportello perché verrà usato lo speed proprio del CSV o comunque del delegato del CSV. Gli sportelli in questione saranno aperti lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13 mentre il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. È un'iniziativa che ci è stata proposta dal comune e che noi abbiamo accolto molto favorevolmente perché favorisce l'integrazione e la relazione tra le amministrazioni, gli enti locali e il CSV Abruzzo tra l'altro è un'attività diretta a persone che vivono un momento di difficoltà e di fragilità e sono anche assistite da molte associazioni di volontariato per altre questioni e quindi questo secondo me rientra pienamente in quelle che sono un po' le attività di servizio che il CSV rende anche ai cittadini. Abbiamo dei giovani molto in gamma, molto preparati, fra l'altro che stanno proprio in questi giorni facendo un corso di formazione che li fa entrare nello specifico del programma e della piattaforma che verrà utilizzata per ricevere queste domande e questo lo facciamo in collaborazione con il comune di Teramo con cui sta crescendo una bellissima relazione.